Per la trentesima di campionato arriva Redini di Cascina alla Prolivorno per una vera e propria sfida a salvezza. Torna tra i pali rizzato, ancora il giovane Rossi tra i titolari a completare la linea di difesa, Gianni in campo dal primo minuto. Al trentaquattesimo, prima grande occasione per il Cascina, Rossi dalla destra mette in mezzo per Malanchi, che di testa però colpisce solo la traversa. Poco più tardi, Gianni, al termine di un'azione rocambolesca in area di rigore, riesce a concludere alle spalle di Rossi, ma il direttore di gara annulla la rete per un presunto fallo in attacco. Al quarantesimo ci prova Geroni dalla distanza, il numero uno della Prolivorno riesce a mandare in calcio d'angolo. Nella ripresa arriva finalmente l'affondo vincente del Cascina. Al sessantacinquesimo, percussione di Lici, che riesce a concludere dal limite dell'area, attacco sventato da Rossi con l'intervento della propria difesa. Al sessantottesimo ci prova ancora Capitan Geroni, dal limite, senza però inquadrare lo specchio della porta. Il gol è caldo e arriva quasi allo scadere della mezz'ora. Gran lavoro di Mencagli, che poi mette in mezzo per i suoi, lascia passare Malanchi ed è Carli ad infilare in rete il tapin vincente dell'1-0. Pochi minuti e il Cascina raddoppia, chiudendo definitivamente la questione. È Bertolini, subentrato da pochi istanti, a firmare la rete il 2-0 con un'azione tutta personale che vale la vittoria.